Allora, ho un compitino per voi, durerà poco, due minuti, ok? Ce la potete fare, ed è la isometria in plank, nel posizione di push up, ok? Faremo 30 secondi la tenuta e 30 secondi recupero, così andremo per 4, quindi sono 4 minuti totali e 2 minuti di lavoro, ok? Preparati quindi. Si parte tra 30 secondi. Così ne rinforziamo ancora la parte superiore per poi poter proseguire con altri nuovi tipi di push up. Tipo per sham push up, che si siamo fermati a metà della strada, così magari poi, quando ci ritroveremo, riusciremo a concluderlo. Via. Giù. E' fai. Ok. Vivo è andato. Cercate stare bene giù. Raso suolo, come si dice, no? 10 secondi. Poi è andato. Cercate. T ValNet. Allora, seconda del dato. Tra dieci secondi, terzo intervallo. Preparati. Tra dieci secondi, terzo intervallo. Dieci secondi. Pane ben aperto. Dieci secondi. Pane ben aperto. Per favore, tutti i giorni, questi quattro minuti, ok? Pane ben aperto. Pane ben aperto. Pane ben aperto.